Tre le piazze animate per dare vita all'edizione 2024 del Vintage Festival. Ancora un ulteriore passo in avanti sia nell'allestimento ma soprattutto nelle zone live dove ci saranno gli spazi per la musica e per le dimostrazioni delle scuole di ballo, la piazza del comune, piazza Parco Presentini che sono i due punti storici, accanto a questo si aggiunge i nuovi giardini di piazza Matteotti. Un collegamento quindi diretto con il centro storico tra i giardini e l'inizio del corso che consentirà di utilizzare anche quell'area per dare sfogo alle nuove richieste che ci sono state anche del Vintage Market, un incremento anche da questo punto di vista degli espositori. Quindi sarà un'area completamente pedonale per un Vintage Festival che davvero ormai ha valicato i confini verso i confini nazionali insomma. Sì, un interesse sempre maggiore, lo vediamo anche nell'altro festival che è il festival nazionale più importante di Vintage che è il Summer Jambori dove si parla sempre di più di Castiglion Fiorentino, tanti artisti che all'inizio di agosto avevano calcato quella zona si sposteranno qui a Castiglion Fiorentino. A livello di prenotazioni come siamo messi? Castiglion Fiorentino è pieno ormai da settimane, facciamo fatica per quanto riguarda la recettività, è una cosa un po' anomala che un paese dell'entroterra nel pieno di Ferragosto sia pieno, ma questa è la dimostrazione di un lavoro che sta portando i suoi frutti e che lavorando con progettualità si riescono anche a creare opportunità economiche per il nostro territorio.